Uno sguardo sulla pittura a Rimini nella prima metà del Novecento, fra tradizione e innovazione. Questo è il tema affrontato dalla mostra pittorica che dal 7 dicembre al 7 gennaio sarà visitabile all'interno del Museo della città di Rimini. A cura di Marco Gennari, promossa dal Comune di Rimini, la mostra offre uno spaccato eloquente di una lunga stagione pittorica che va dallo scorcio dell'ultimo Ottocento agli anni Sessanta del Novecento attraverso una selezione di opere provenienti da collezioni private e pubbliche. La committenza riminese è stata una committenza squisitamente borghese perché per certi aspetti si è legata ad un'immagine della terra, del territorio e della campagna come a un bene perduto al quale si è voluta legare in modo nostalgico, perenne, duraturo con episodi dal punto di vista artistico anche belli, anche piacevoli e però non sempre al passo con quello che l'arte figurativa andava cercando, ricercando nei primi decenni, nei primi 50 anni del Novecento italiano. Non è il primo tentativo di rileggere l'arte del Novecento riminese ma come espressamente indicato dal curatore si è voluto interpretare il periodo sulla scorta di un tema quello appunto più appassionante e divisivo in quegli anni è da sempre l'essere il linguaggio dell'arte divaricato e scisso fra tradizione e innovazione. Una pittura che quando incontrerà effettivamente si dovrà fare i conti dopo la cesura della guerra con la modernità tenta ad aggiornarsi, saranno poi forse proprio i due grandi premi che nella stagione della Biennale dell'Adriatico del Mare e nel Morgan Painter due rassegne importanti che hanno portato a Rimini anche artisti di levatura internazionale e quindi hanno costretto in qualche modo anche i pittori riminesi a confrontarsi con loro ecco lì avvengono degli scatti, dei salti in qualche modo anche di stile.